Il progetto vuole arrivare ad una valutazione di esito condivisa sui servizi per i minorenti. Non si occuperà solamente di tutela, ma anche di sostenere gli operatori nello sviluppo di azioni di prevenzione. Questo progetto viene ispirato da quelle che sono le direttive della Comunità Economica Europea del 2011 sull'innovazione in ambiti sensibili che sostengono che l'innovazione può avere luogo solamente in forma inclusiva. Il nostro progetto intende partire coinvolgendo in prima istanza tutti gli operatori che sono coinvolti nel servizio minore. Si parte dal Tribunale dei Minori, la scuola, gli educatori, le strutture sanitarie e gli assistenti sociali. Tutte queste figure convergono e producono informazioni sensibili e utili per sostenere sia la fase di tutela che la fase di prevenzione.